Il dottor Alberto Scattolin che è il direttore scientifico di questo convegno dove avete unito la funzionalità e l'estetica del volto, la chirurgia, le nuove frontiere della chirurgia per mettere a disposizione la vostra competenza e la vostra esperienza per quanti necessitano di una rinoplastica. Sì, questo convegno è il convegno nazionale di una società, l'Aicef, che oggi celebrava i vent'anni della sua esistenza. Noi ci teniamo molto a ribadire che cosa? Che la chirurgia estetica è una richiesta, un bisogno oggi della gente, c'è una grande richiesta. Molto spesso la domanda chiede l'offerta non è all'altezza in che senso? Che si è ridotta questa chirurgia quasi ad un commercio. Io ti chiedo, tu mi dai, è una chirurgia? È una chirurgia che ha alle spalle una lunga storia? È una storia che è nata, per dire, pochi lo sanno, nel dopoguerra, soprattutto dopo la prima guerra mondiale, perché in realtà dai campi di battaglia tornavano persone mutilate al volto e la mutilazione al volto era molto più difficile da superare per queste persone nel loro recupero relazionale. Quindi lì nasce la prima chirurgia ricostruttiva. Da lì nascono i grandi maestri ed è una chirurgia sulla quale hanno studiato, hanno discusso, hanno lavorato. Oggi ridurla a commercio è molto triste. Anche perché, dottore, la chirurgia del volto, l'estetica, la rinoplastica non è una chirurgia di serie B, è una chirurgia impegnativa, complessa, con delle complicanze a volte? È una chirurgia complessa, è una chirurgia che va eseguita in maniera corretta, è una chirurgia affascinante per noi perché il piccolo dettaglio diventa molto importante sul volto. È una chirurgia che noi dobbiamo amare perché dobbiamo rispettare il paziente. Il paziente ha un disagio, un disagio che molto spesso non è solamente un disagio estetico, quindi banale, corrisponde a un disturbo funzionale, un naso che non respira, un occhio che si chiude per il peso delle borse, delle palpebre, eccetera. Oggi siamo figli del nostro tempo, mi piace pensare, quindi tutti ci guardiamo e qualche volta notiamo dei difetti che forse gli altri non notano ma che ci condizionano. Ci condizionano, per esempio, nel caso del naso, con noi stessi ma anche con chi ci sta vicino perché russando disturbiamo chi ci sta vicino. Ecco, in questo convegno partecipano anche molti giovani, molti giovani chirurghi, le nuove leve della chirurgia, della otorinolaringoiatria, del volto e quindi quali messaggi vanno trasmessi ai giovani? Allora, questo convegno di Perugia poi ha una caratteristica che mi piace e voglio sottolineare. Il direttore, il presidente con me di questo convegno è il professor Ricci che è un cattedratico, quindi il ruolo dell'università, il ruolo dell'insegnamento oggi ci trova assolutamente a fianco, è fondamentale, è la trasmissione del sapere. Se non c'è un giovane che impara da noi, abbiamo fallito, il giovane oggi purtroppo ha grosse difficoltà, ha grosse difficoltà anche economiche, quindi andargli incontro, essendo sinceri nel modo con cui trasferiamo, è il fascino dei secoli, non voglio essere retorico o presuntuoso, ma è la trasmissione della conoscenza. Ecco, lei dottor Scattolin magari ha una sorta di record da Guinness dei primati, ha dedicato molti decenni della sua attività chirurgica proprio alla rinoplastica. Quanti interventi chirurgici ha fatto e quali soddisfazioni maggiori ha potuto raccogliere dalla sua attività nel tempo con la progressione del sapere alla quale lei faceva riferimento? Allora, sì, i numeri contano poco, contano i risultati, però i numeri sono legati all'età. I capelli bianchi ormai imperanti mostrano che sono molti anni che ci si dedica. Quindi se dopo 30-40 anni uno può dire aver fatto 3-4 mila di questi interventi, non è perché è bravo, perché è vecchiotto forse, per carità. Qual è la più bella soddisfazione? Quando le ragazzine operate 20-30 anni fa portano i loro figli. Quindi vuol dire che quell'intervento ha modificato il loro modo d'essere, lo ricordano in modo piacevole e ti affidano la seconda generazione. Quello forse è il risultato migliore, quello sì, più bello.